benvenuti a parliamo di finanza comportamentale il podcast di bcc risparmio e previdenza sono luca ramponi vice direttore generale di bcc rp e insieme a gianna tanfigoli di professione finanza vi guideremo alla scoperta proprio della finanza comportamentale e di quanto sia importante per ognuno di noi conoscerne i segreti per gestire al meglio i nostri risparmi e i nostri investimenti bene luca oggi parleremo di come i conti mentali possano rappresentare un ottimo alleato per gestire i nostri soldi e di come sia anche utile arrivare a costruire un vero e proprio portafoglio comportamentale e come ormai da tradizione voglio introdurre il tema leggendo un estratto di un libro quest'oggi vi propongo the nudge di richard taylor che a pagina 58 cita la sveglia è un tipico espediente esterno che gli individui utilizzano per risolvere i problemi di autocontrollo un altro modo per affrontare questi problemi adottare sistemi di controllo interni noti anche come contabilità mentale quasi tutti noi facciamo ricorso alla contabilità mentale anche se spesso non ce ne accorgiamo il concetto è illustrato meravigliosamente da uno scambio di battute tra gli attori gian hackman e dustin hoffman che abbiamo trovato nei contenuti extra presenti in un dvd hackman e hoffman sono amici fin dai tempi in cui erano ancora due artisti squattrinati e di belle speranze hackman racconta di quando si recò l'appartamento di hoffman e questo gli chiese un prestito hackman ha consentì ma poi due entrarono nella cucina di hoffman dove c'erano diversi barattoli allineati sul bancone ciascuno pieno di soldi su un barattolo c'era scritto affitto su un altro bollette e così via hackman chiese hoffman come mai avendo così tanti soldi nei barattoli avesse ancora bisogno di un prestito e hoffman gli indicò il barattolo del cibo che era vuoto secondo me dobbiamo partire dalla teoria economica o anche semplicemente dalla logica secondo cui il denaro è fungibile nel senso che non ha etichette ad esempio i 20 dollari presenti nel barattolo dell'affitto possono benissimo servire ad acquistare lo stesso valore di cibo per 20 dollari contenuti nel barattolo del cibo è invece un bene che le persone e i nuclei familiari adottino sistemi di contabilità mentale che violano il principio di fungibilità e questo per lo stesso motivo per cui lo fanno molte organizzazioni per controllare la spesa le aziende di solito destinano somme veri e propri budget a specifiche attività e chi ha lavorato per una di queste organizzazioni avrà certamente chiaro in testa cosa voglia dire non poter effettuare un acquisto importante perché gli importi stanziati per quel capitolo di spesa erano già esauriti il fatto che sotto altri capitoli di spesa ci siano somme stanziate e non ancora spese è considerato non più rilevante del denaro contenuto nel barattolo dell'affitto sul bancone della cucina di Dustin Hoffman sai luca ci sono diversi trucchi mentali che possiamo adottare per salvaguardare i nostri soldi sempre all'interno del libro naggio viene fatto l'esempio di un professore di finanza che decide a ogni anno di destinare una somma ricorrente ad esempio 1000 euro a una specifica associazione appagando così il suo senso di fare del bene e di essere utile alla società nella realtà questo professore decide di stanziare contabilmente questo importo a inizio anno ma di versarlo solo alla fine dell'anno andando durante questo periodo a sottrarre dalla somma eventuali spese per guai non aspettati come una semplice multa questo gli fornisce mentalmente un'assicurazione contro i piccoli guai finanziari che si possono avere durante l'anno sai anche i giocatori del casino e se non lo avete fatto riascoltate il podcast in cui abbiamo parlato di quanto gioco d'azzardo e scommesse possono farci davvero del male da un punto di vista economico comunque anche i casi i giocatori del casino adottano forme di contabilità mentale che al colpo di fortuna di vincere qualcosa già all'inizio della serata è portato a mettere il denaro della vincita in una tasca e il denaro che ha portato con sé per giocare quella sera in un'altra si tratta quindi di un vero e proprio diverso conto mentale i giocatori hanno addirittura un termine per questo modo di fare il denaro appena vinto è detto denaro della casa ovvero del casino e su questo si è portati a scommettere prendendosi anche grossi rischi perché in qualche modo si considera come se fosse diverso da altri tipi di denaro questo jonathan è un atteggiamento che possiamo vedere anche sui mercati finanziari ed è uno dei bias comportamentali che porta alla creazione delle famose bolle finanziarie anche il forte aumento dei prezzi azionari registrato negli anni 90 è stato alimentato dal fatto che molti investitori si assumevano rischi giustificandoli con il fatto di speculare soltanto con i guadagni realizzati negli ultimi anni ma questo atteggiamento è anche un bene perché dai investitori consapevoli possiamo sfruttare le motività di chi entra ed esce dai mercati allungando il nostro orizzonte temporale e guadagnando così anche da questa crescita extra dei prezzi azionari non determinati solo dai fondamentali delle aziende ma anche dal comportamento degli investitori è infatti dimostrato che considerando qualsiasi arco temporale lungo almeno dieci anni se si mantengono gli investimenti diversificati sui mercati azionari non si concretizzano mai perdite un altro ottimo suggerimento luca è quello di incoraggiare il risparmio incanalando le nostre disponibilità economiche verso un conto mentale ma anche un conto reale avere più conti correnti bancari spesso può essere comunque un'ottima soluzione operativa verso un conto mentale dicevo secondo cui la spesa non sia una tentazione molto grande pensiamo al tema del lusso dell'elettronica di consumo potremmo dedicare interi podcast anche a questi aspetti mi piacerebbe quindi consigliare come gestire i propri risparmi partendo la piramide di maslow abram maslow è uno psicologo statunitense che negli anni 50 partendo dai suoi studi sulle motivazioni del comportamento umano propone la teoria della piramide partendo dalla volontà di aiutare le persone a comprendere i propri bisogni da una parte e a soddisfarli dall'altra per fare questo descrive raccoglie i bisogni in cinque livelli da quelli fisiologici e più basilari a quelli più complessi i bisogni più basilari fisiologici sono il mangiare il bere il dormire a cui fanno seguito quelli relativi alla sicurezza salendo via via verso il vertice della piramide troviamo poi i bisogni sociali che includono i desideri di relazione e appartenenza i bisogni di stimolazione ovvero quelli finalizzati alla soddisfazione della curiosità e alla necessità di crescere di migliorare e infine si arriva ai bisogni di autorealizzazione ovvero quei bisogni più complessi collegati alla necessità di compiere qualcosa di significativo o di avere un senso di scopo nella vita e questa piramide con i suoi cinque gradini si può benissimo applicare anche nella composizione del nostro portafoglio personale vero luca assolutamente sì jonathan anche per dare una risposta ai nostri bisogni di sicurezza e certezza che come abbiamo visto nei precedenti podcast sono insiti in ognuno di noi il consiglio principale nella gestione del proprio denaro è quello di dare priorità al bisogno fisiologico più importante preservare la propria salute in questa direzione credo sia assolutamente doveroso per ognuno di noi assicurarsi con una polizza tcm una polizza salute e una long term care questo non solo per tutelare i nostri risparmi in caso di evento negativo ma anche e soprattutto per non gravare sui nostri familiari e le persone noi care una volta coperta questa esigenza occorre poi capire come poter integrare le nostre entrate e questo lo si può fare sottoscrivendo un fondo pensione attenzione alle dinamiche demografiche che porteranno inevitabilmente negli anni a gap pensionistici sempre più importanti ma anche investendo i propri risparmi strumenti finanziari a basso rischio una volta colmati i bisogni di sicurezza di questa nostra piramide comportamentale ecco che diventa importante dedicarsi ai bisogni di crescita di maslow iniziando a rivolgere la nostra attenzione ai beni primari come l'acquisto della prima casa che può essere raggiunto anche grazie all'investimento in fondi obbligazionari riusciamo così a pensare al nostro benessere futuro attraverso gli investimenti jonathan son convinto che si tratti di spunti molto interessanti e che portano a riflettere così come i consigli che forniremo nella prossima e ultima puntata in cui parleremo di come rispettare l'orizzonte temporale a presto